Alla stracittadina Città di L'Aquila, in programma domenica 26 maggio, tra i protagonisti troviamo l'Associazione Luca Moro. L'Associazione, lo sport per tutti, è nata in onore e nel ricordo di Luca Moro, storico capitano dell'oratoriana calcio. La sua passione per lo sport e i suoi valori di fair play e inclusione sono i pilastri di questa associazione che si impegna a promuovere la pratica sportiva tra i più giovani. L'associazione il cui intento è quello là di andare ad aiutare le famiglie bisognose a praticare sport, qualsiasi tipologia di sport. Ogni anno l'associazione bandisce borse di studio per bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie. Il sostegno economico mira ad abbattere le barriere socio-economiche che potrebbero impedire loro di praticare sport, garantendo a tutti la possibilità di vivere i benefici di un'attività fisica sana e divertente. Chi ha deciso di partecipare alla corsa della stracittadina dell'Aquila ha contribuito attivamente al raggiungimento degli obiettivi dell'associazione. La quota di iscrizione infatti sosterrà la raccolta fondi a favore delle borse di studio e delle attività sportive dedicate ai più giovani.